L'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di BPM della fusione e della trasformazione in SPA è un risultato molto importante, il sindacato ci ha creduto, crede che questa operazione darà sviluppo, crescita e è una grande opportunità anche per tutelare e valorizzare l'occupazione. Ora ci aspetta un grande lavoro per costruire veramente la terza grande banca italiana, ma con il risultato ottenuto oggi le basi ci sono tutte perché le lavoratrici e i lavoratori hanno capito il nostro messaggio.